Adesso è arrivato il momento, come avevamo anticipato, di parlare dei 700 anni del mercato di Morgé. E' con noi per parlarne Diego Bovar, referente dell'iniziativa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno anche a voi. In occasione della concessione del titolo di Città Libra avete organizzato questa rievocazione medievale. Sì, nell'ambito di un progetto Interreg voluto dal Comune in collaborazione con la Fondazione Sappegno, l'amministrazione regionale e successivamente la collaborazione della Proloco, si è voluto inserire nell'ambito di questo progetto i festeggiamenti di questa importantissima ricorrenza di 700 anni di concessione delle franchigie, cioè la concessione agli abitanti del luogo di poter commerciare liberamente, quindi una cosa decisamente avanti. Quali sono state le difficoltà più grandi nell'organizzazione? Da una parte diciamo che grandi difficoltà non ce ne sono state in quanto la presenza negli archivi storici di questa citazione, di questi studi, già ritrovati anni or sono, hanno facilitato il nostro lavoro. Poi l'aver messo assieme le varie anime del Paese che si occupano in qualche modo di mercato, fino ad esempio anche a tutti i volontari dei forni, piuttosto che la Proloco, piuttosto che tutti i commercianti che il giovedì vengono al mercato, il Marche Agricol e non ultimo anche gli artigiani locali. Quindi abbiamo messo insieme tutte queste anime e abbiamo provato a rievocare quello che era una consuetudine settimanale da ormai 700 anni. La ricordiamo brevemente che ovviamente la ricorrenza era il 23 ottobre, lì sono iniziate le celebrazioni che poi hanno avuto il culmine diciamo recentemente l'8 dicembre. Sì, diciamo che sono state delle giornate abbastanza intense, siamo partiti il giovedì con una serie di incontri, prima con gli operatori del mercato, poi un incontro con la popolazione per gli aspetti storici. Il venerdì un aspetto decisamente interessante l'aver dato importanza ad uno dei prodotti che non è costano ma che sul mercato di Morgé è presente da parecchio tempo, quindi abbiamo fatto una serata con una bagna cauda, quindi le acciughe. E proprio all'interno di questi tanti eventi vediamo quello che è stato l'incontro alla Tour de l'Arche sulla nascita del mercato e la vita quotidiana del 300. Sette secoli non sono voti, eppure è dal 28 ottobre 1318 che ogni giovedì Morgé è sede di uno dei mercati settimanali più antichi d'Europa. Per toccare i vari aspetti della storia di questo mercato si è tenuto la Tour de l'Arche un incontro dal titolo Assaggi di vita medievale. Si è parlato di come mangiavano, vestivano e vivevano all'epoca gli abitanti di Morgé, ma anche delle origini del mercato. In effetti il mercato di Morgé è stato istituito esattamente 700 anni fa dal conte Amedeo V di Savoia con un documento, una carta di franchigia che rendeva Morgé un villaggio libero, una villa franca, in cui tenere un mercato esentasse in linea di principio, anche se poi in realtà il conte aveva il suo tornaconto. Diciamo che questo mercato si accompagnava poi tutta una serie di libertà, cioè di franchigie, che davano agli abitanti di Morgé dei diritti che prima o non avevano o esercitavano in maniera consuetudinaria, in maniera informale, diciamo così. Il titolo del tuo intervento è molto interessante, si parla di pattume. Sì, il pattume come fonte per ricostruire la vita medievale. Nella fattispecie è un tipo particolare di pattume, gli scarti di macellazione. Attraverso questo genere di dato archeologico si riesce a ricostruire che tipo di strategie di allevamento, che tipo di animali venivano effettivamente allevati e macellati. Come venivano preparate le carni, come venivano cotte, se si preferiva macellare animali giovani o animali vecchi. Cambia ovviamente questo la strategia nell'allevamento, perché macellare animali vecchi vuol dire allevarli per il latte, per la lana, piuttosto che come forza lavoro. Macellarli giovani vuol dire macellarli in funzione dell'apporto di carne. Torniamo in studio con Diego Bovar, referente dell'iniziativa. Come abbiamo appena sentito, riscoprire questi mercati vuol dire anche riscoprire quelle che sono le usanze del tempo e come si sono evolute poi nei secoli. Sicuramente questa serata ci ha dato degli spunti decisamente interessanti. per poter continuare a lavorare sulla ricerca di questi aspetti. Dal mercato si possono notare delle cose decisamente interessanti nell'ambito della vita sociale e cose che ci siamo portati dietro negli anni. E per quanto riguarda la vita sociale, tra i tanti eventi c'è stata anche una vendita benefica? Sì, diciamo che abbiamo approfittato dei volontari dei forni della Ruin e del Peuté per produrre del pane tradizionale, del panneur, delle flanze che è un prodotto proprio tipico di Morgé, per poi fare una raccolta di fondi che verrà utilizzata per il proseguio delle attività all'interno di questo progetto a favore della ricerca legata ai prodotti del mercato. Brevemente, in chiusura, immagino che avrete in programma di far diventare questo appuntamento un appuntamento fisso. Ma sicuramente il culmine della manifestazione con la visita di Caterina Di Chalant nell'ambito del mercato ha suscitato un interesse decisamente importante nel continuare questo tipo di iniziativa anche da parte dei figuranti del Carnevale di Veres. Allora, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie.